All'interno di queste stanze Paolina Bonaparte, sorella di Napoleone, visse la sua storia di donna che ebbe tutto dalla vita e tutta la vita le sottrasse. Da oggi la villa davanti a Piazza Scelli, fatta a costruire in pochissimo tempo dalla stessa Paolina nel 1822, è riaperta al pubblico in tutto il suo straordinario splendore. Un gioiello nel cuore della città di Vereggio che al primo piano ha riaperto le sue stanze arricchite da raffinate decorazioni. Finalmente una cosa meravigliosa che abbiamo riportato alla luce, una cosa bellissima, spero che tutta la città ne possa godere perché davvero questa è una partenza straordinaria anche per quanto riguarda la cultura, per quanto riguarda le bellezze della nostra città. L'arredo originale è stato concesso fino a tutto settembre dalle famiglie Sgro e Frediani. Le note di bohème e cantanti lirici dell'Accademia del Festival Pucciniano hanno trasformato l'inaugurazione in uno straordinario ed emozionante evento. Un altro passo avanti verso la bellezza, ha detto il sindaco Del Ghingaro dopo il taglio del nastro. Oggi le stanze della dimora voluta per amore del musicista Pacimi sono di nuovo aperte e la bella Paolina, ha concluso, torna in questa villa che per troppo tempo è rimasta chiusa con tutti i suoi segreti e tutti i suoi amori. Del Ghingaro ha poi ringraziato l'assessore alla cultura Sandra May che ha avuto l'idea dell'iniziativa. Una villa, un gioiello che fino a ieri era inusufruibile, era rimasto chiuso. Quindi questa bellissima location che avrà da oggi le finestre aperte su una delle nostre città più belle, più amate, appunto ci rende, ci dà un tassellino di ricchezza in più. Ne abbiamo già tante in Toscana, abbiamo un patrimonio culturale enorme e quindi questo a volte ci fa dimenticare di dover valorizzare al 100% tutta la bellezza e la ricchezza che abbiamo. Oggi un passo in questa direzione è stato fatto, quindi credo che sia una festa per Viareggio e di conseguenza una festa per la Toscana.